Quindi mi vorresti dire che in realtà sono molte volte i parrucchieri che pur di non rinunciare a un lavoro sono disposti anche a rovinare il capello dei clienti? E beh purtroppo sì, perché molte volte, tante volte mi sono trovato costretto a dire di no per un fattore etico, visto che noi siamo specializzati, sicuramente se non ho una base adatta su cui fare un biondo non lo posso fare, o lo posso fare ma prima dobbiamo fare un percorso insieme di rigenerazione, di aggiustamento del capello visto che oggi abbiamo la tecnologia per farlo, quindi gradualmente lo andiamo a rischiarire e andiamo ad esaudire il desiderio della cliente quindi se la cliente vuole essere bionda la portiamo fino al biondo che vuole perché l'importante per noi è esaudire il desiderio della cliente c'è bisogno di un pochino di pazienza ma riusciamo ad ottenere dei risultati fantastici Grazie 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 Grazie